e ma ce n'è proprio uno davanti a me 10 metri che sta salendo 10 metri davanti a me c'è uno no il birri no perché gli si è schiacciato un bottone poi lo mettiamo a posto dopo dopo il birri non c'è siamo io e te siamo solo io e te emma solo io e te bello lucre preso è proprio il vector che ti ammazza e 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 prima merda puttana sono dentro al campo sono entrato definitivamente dentro al campo si si i nemici sono ancora la si i nemici sono ancora la si i nemici sono ancora la ad un nego tu hai preso l'altro avanza avanza an μέ p 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 ma non avevo visto il terzo, perdonami. Ok, preso. Ce n'è uno sulla recinzione, ripeto, ce n'è uno sulla recinzione. Faccio il giro largo, vado sulla strada e cerco di prenderlo. E' appena lì nello spiazzo nell'entrata del nostro campo, non dove c'è il cancello, quella prima dove sono entrato io. Ce ne sono due. Ce ne sono due, ripeto, ce ne sono due. Preso, preso, preso. Preso, preso, bravo. Entro! Eh, ma sei ancora lì nell'impalcatura? Eh, lo so, è quello che mi ha preso prima me. Uno l'ho preso, il problema è che ce n'erano due. Adesso cerco di andarlo a prendere ancora. E' sdraiato esattamente nello spazio, lì, nell'anfranto, prima di entrare nel nostro campo. preso, 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 preso anche neg, preso anche neg. Strada libera, strada libera, almeno penso. Ok, andiamo a sinistra. Ok, andiamo a sinistra. Sono alla destra della casetta. Bella, neg. Figa, perché non hai sparato gay? Figa, che cazzo l'aveva visto? Bravo, neg. Invisibile, invisibile. Dov'è, Lucre? Non lo vedo. Vai cazzo, no. Senza la fichina sto bimmino. Tu corri, prendi la bandiera. Ok? Ci sei? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai. Ok, l'ha presa, l'ha presa. Ok, vado a stare, vado a stare che io rimango qua. Emma, abbiamo preso la bandiera, abbiamo preso la bandiera. Emma, tu rimani in posizione, rimani lì, nascosto. Ok? Bandiera presa! Ripeto, bandiera presa! Ok, Emma, rimani in posizione, nascosto, che arrivano. Qui Miguel, Miguel è solo con la pistola, gli è morta la batteria del fucile. Ripeto, Miguel è solo con la pistola. Ok, io sono nella casetta, vicino al pozzo. Difendo la zona, quel cecchino di NEG. Ripeto, mammaounds. Come qui together. Lascia che vi den fanno guiando sulicamente. Ripeto, interpreted. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.